Le vittime del salvabanca al MEF. L'associazione sarà infatti ricevuta domani mattina alle 10 al Ministero dell'Economia e delle Finanze assieme alle altre associazioni a tutela dei risparmiatori veneti per tornare così nuovamente a parlare del tema risparmiatori. Più che suggerire modalità di ristoro fa sapere Letizia Giorgiani, presidente dell'associazione, andremo ad ascoltare quali sono le ipotesi ma soprattutto quali risorse sono state individuate a favore dei risparmiatori. Come associazione appoggeremo qualsiasi proposta che superi la trappola della dimostrazione della truffa. Dal momento che tutti i risparmiatori rimasti intrappolati nella risoluzione delle quattro banche sono state vittime di una mancata vigilanza di bilanci truccati oltre che dell'omessa informazione sulla rischiosità dell'investimento. Occorre avere a questo punto il coraggio di fare una coraggiosa ma necessaria operazione di verità prosegue Letizia Giorgiani che imponga l'accesso agli atti dei soggetti proposti alla vigilanza fino adesso secretati per una ricostruzione oggettiva di quello che è successo. Occorre aprire quei cassetti che porteranno anche nell'immediato ad individuare il responsabile e di conseguenza consegue le risorse da destinare alla platea degli eventi diritto.